Nessun problema per Saugella che in soli 76 minuti sbriga la pratica reale mutua a Feneracchieri con un secco 3-0 nella quarta giornata della Samsung Volley Cup. Pronostico e ambizioni pendevano per le monzesi, ma la fame di punti delle matricole piemontesi ancora a secco in campionato e soprattutto le condizioni fisiche delle rose azzurre non lasciavano presagire nulla di buono. Sì perché Falasca, oltre a Bausch ancora ai box, ha dovuto fare a meno di Hancock, neanche a referto per un problema alla caviglia e rinunciare a Begic, tenuta a riposo in panchina con qualche problemino fisico. La squadra però ha risposto bene, l'ordinata regia di Balboni ha gestito al meglio le attaccanti di casa. Alla fine l'MVP è Adams, top scorer con 15 punti, con Ortolani e Ortman rispettivamente a 12-11. Ne ha avuto un buon impatto da Melandri e dalla panchina di Bianchini, autrice di quattro ace. Chieri ci ha provato, ma non ci ha creduto troppo, affidandosi a De La Caridad e all'energia di Acrari e nel terzo set, quando chiamata in causa, di Angelina. Troppo poco, anche perché le ragazze di Secchi hanno sbagliato troppo, con 20 errori punto in totale. Saugella chiude dunque 3-0, lasciando a 19, 17 e 21 Chieri e acquisendo fiducia alla vigilia di una settimana intensa con il turno infrasettimanale.